Ciao a tutti, in questo video voglio parlare del valore della gratitudine. Noi spesso diamo tutto per scontato, invece dovremmo imparare a essere grati. Essere grati all'universo, essere grati di quello che capita nella nostra vita e non dare assolutamente tutto per scontato, perché dare tutto per scontato vuol dire non apprezzare nulla. Faccio un esempio, se abbiamo un lavoro noioso potremmo sicuramente migliorarlo, è giusto migliorarlo, ma dobbiamo renderci conto che il nostro lavoro noioso può essere il sogno di un disoccupato. Se noi abbiamo una piccola casa, magari pure in affitto, certo che dobbiamo darci da fare per migliorare, per avere una casa migliore, magari di proprietà, eccetera, più grande, più bella, ma dobbiamo anche renderci conto che la nostra piccola casa è il sogno di un senza tetto. Se noi abbiamo pochi soldi in banca, diciamo così, e vorremmo comprarci più cose, magari non possiamo, sicuramente dobbiamo fare, impegnarci per migliorarci, questo è scontato, ma dobbiamo anche renderci conto che i nostri pochi soldi sono il sogno di chi non ha nulla. Se noi ci lamentiamo dei nostri acciacchi, delle cose che magari non vanno, sicuramente dobbiamo migliorare la nostra salute, soprattutto curando l'alimentazione, lo sport e tutto, però ricordarci che il nostro stato di salute può essere il sogno di chi magari ha una malattia terminale, ad esempio. Ecco, tutte queste cose dovrebbero farci capire che prima di tutto, prima di migliorare noi stessi, dobbiamo, è che è giusto migliorare la nostra situazione, ma non può passare il miglioramento se non passa attraverso la gratitudine, cioè essere grati all'universo, alla vita e a noi stessi di quello che abbiamo. Da lì in poi possiamo pensare a migliorare. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina di Instagram, Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!